ciao allora sì nel titolo avete letto bene se volete un regalo ve lo dovete meritare allora gli spiego tutto allora pensavo di fare un giveaway ogni tanto mi piace fare queste cose quando le cose da parte regalarle a voi perché ve lo meritate perché mi guardate perché mi sopportate però ho pensato che così a caso ed è fare un giveaway dove partecipa tanta gente che non guarda mai i miei video solo partecipa partecipa a quel giveaway lì solo per quella volta non mi piace rischio di dare dei premi a delle persone che sono lì per caso per partecipare e basta che non mi supportano e che non guardano i miei video allora se volete un premio da me ve lo dovete guadagnare semplicissimo non c'è scadenza non c'è niente non c'è data assolutamente io periodicamente metto da parte delle cose e le metterò in questo bellissimo cestino che ho preso su wish che comunque non sembra mai grande metterò da parte delle cose per voi e quando è pieno quindi una volta al mese una volta ogni mese e mezzo al massimo penso penso mensilmente comunque guardo tra i commenti ed è quelli che sono più attivi il contatto io per comunicarli ed è che se vogliono un regalino da me mi devo andare in un indirizzo guardo a caso non a caso guardo i più attivi quindi se c'è qualcuno perché ce ne sono diversi e tutti i miei commenti che commentano sempre che sono carini che ovviamente essere iscritti è la base ma tra quelli che sono attivi che commentano che interagiscono nei miei video allora ed è loro sì che si mettono di ricevere un regalino sembra carino non ci sono regole semplicemente essere iscritti al mio canale ed sai come avete sempre fatto quindi oltre a vedere il video un commentino io sono la prima sinceramente a guardo tantissimi video ma difficilmente lascio commenti quindi guardo il video ne guardo un altro ne guardo un altro ma difficilmente a meno che non c'è qualcosa che voglio dire difficilmente lascio commenti e invece voglio che voi mi lasciate un commento qualunque cosa niente insulti ma qualunque cosa tanto i miei video sono sempre a interazione quindi ci basta poco per lasciare un commento ovviamente se guardate tutti i commenti nei miei video ci sono persone che commentano davvero tutti 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 i video di quelle alcune le conosco personalmente e abitano nella mia città o vicino sono amiche ciao soffi ciao tesoro quelle sono escluse ovviamente per motivi e non sono persone a cui comunque tengo ma gli faccio i regali di persona quindi quelle sono escluse se no non avrebbe senso e mi sembra anche giusto per voi per il resto comunque sia basta essere iscritti interagire interagire con me per qualunque cosa tanto io vi chiedo sempre in tutti i video se la quale volete che parto a recensire se avete provato quei prodotti se vi interessa di più questo o quello se vi è piaciuto quindi una risposta c'è sempre interagire tranquillamente un commento siate attivi sul mio canale vi voglio attivi vi voglio voglio che interagiate mi piace questa cosa che interagiate io metto da parte i prodotti e poi quando la busta è piena vi contatto direttamente io in privato e ci mettiamo d'accordo se siete interessati perché ma guarda quello vuol dire non me ne frega niente allora niente però nel caso i più attivi riceveranno un regalo ovviamente giusto perché ci sono anche dei maschietti lo so nel mio canale e ovviamente guarderò se siete maschio o femmina perché se siete dei maschietti magari vi interessa però magari cose di trucco invece non vi interessa quindi guarderò in questo caso vi chiederò perché se avete una fidanzata una moglie una madre un'amica che è interessata voi magari no a quei prodotti ma sapete a chi darli fate anche un bel regalo a qualcuno se no comunque sia ed è dato che il premio è vostro lo siete meritato voi guarderò delle cose maschili tanto tranquilli che ci sono anche tante cose maschili io direi che ho detto tutto e non a scadenza quindi sempre siate attivi sempre perché sempre io metterò da parte e invece di fare metto da parte faccio i giveaway perché li faccio un po' in giro li faccio su facebook su instagram qui invece di farli così io metto un po' da parte e poi dopo i più meritevoli ricevano i prodotti quindi ogni mese mese e mezzo ogni mese e mezzo più o meno sapete che carico due video a settimana quindi non ce n'è anche tantissimo da stare lì tutti i giorni a commentare due video a settimana e basta direi che ho detto tutto mi sembra un'idea carina perché carina perché davvero ve lo mentiate voi non so fare un giveaway si li faccio mi piacciono però vedo che se normalmente ho 15 commenti sotto il video per quel giveaway ne ho 300 perché perché ci sono tante persone che arrivano solo per partecipare e poi spariscono e invece mi piace che siete proprio attivi anche perché siete il mio feedback quindi se una cosa vi piace se una cosa non vi piace un argomento vi interessa un altro vi ha stufato o non vi interessa siete voi a dirmelo se volete cose nuove se va bene come vado se vanno altre cose quindi siete voi il feedback di quello che faccio per sapere anche come orientarmi e quindi è giusto che siete premiati e abituo anche di dare cose a persone che non mi conoscono non mi supportano ma sono lì solo per partecipare che è giusto è giustissimo non è che sto a dire non lo dovete fare è giusto però mi piacerebbe premiare la mia community se capite cosa intendo e quindi ho creato anche un video ad hoc che metterò alla fine di ogni mio video così non si può dimenticare voi che guardate il mio video non potete dimenticare di lasciare il commento perché ci sarà questa clip che magari alla fine di questo video vi lascio così la vedete anche in anteprima che vi ricordo di lasciare il commento se volete il premio quindi tranquilli e grazie a chi c'è sempre e mi supporta sempre vogliamo crescere ancora di più e vogliamo supportarci ancora di più ed al prossimo video e mi raccomando lasciate un commentino ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao 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 è